Ciao Juventinazzi, ciao a tutti, Marcello, a tutti e tutti, 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 tutti. Allora, Juventus Genoa 4-0, grande partita, non pensavo fosse così facile dopo la partita di Barcellona, però si vede che la squadra sta bene, gioca bene, gioca benissimo, sta in condizione, è quello che ha detto Allegri che marzo-aprile era il punto in cui la squadra doveva esprimere il miglior calcio e comunque con la miglior condizione. Miglior in campo, Marchisio, Mandzukic, questi due se la giocano perché si è rivisto un gran centrocampista, era molto tempo che non vedevamo Marchisio giocare in questi ritmi, questa intensità, Mandzukic un leone sul campo, grande gol, altrettanto di bala, difesa perfetta con Benatia, Neto non ha dovuto fare parate molto difficili e davanti Higuain ha fatto la sua partita perfetta, peccato, gli è mancato solo il gol, però ha fatto una partita di contenimento e di passaggi perfetti, ripartenze ottime. Poi per quanto riguarda il sorteggio, il Monaco secondo alcuni è la squadra più debole, però ora viaggia bene perché ha giocatori forti, un attacco forte, giovani, testa sgombra che corrono, come ha detto Allegri in intervista post partita. Bisogna stare attenti, il problema è che l'unico problema mi sa che è proprio il fatto di avere la prima fuori casa poi in casa, però ce la dobbiamo andare a giocare e se la Juve gioca a questi ritmi non ha paura di nessuno. ultima cosa, sul Monaco voglio dire che la difesa forse è un po', come dire, fa acqua, però ti concede dei gol, il portiere non è proprio un grandissimo portiere, però le puoi fare gol solo a campo aperto perché sono squadre che si aprono molto e appunto corrono. Sempre forza a Juve, ciao ciao!